Ciao, ciao a tutti, buongiorno in questa splendida domenica 25 giugno, potete notare l'eleganza, sono al battesimo del figlio di mia sorella e mi sono preso dieci minuti per venire qua a raccontarvi qualcosina. Allora ragazzi, partirei da Turam. Turam, allora, non è che adesso, avete presente la Volpe e l'Uva, cioè non è adesso perché Turam ha scelto l'Inter che tutte le considerazioni che facevamo prima non valgono più, valgono esattamente nello stesso identico modo, cioè Turam era, ed è attualmente, anche se poi andrà all'Inter, un buon giocatore, perché comunque secondo il mio punto di vista rimane comunque un buon giocatore. Da qua poi a dire che è un giocatore che vale le cifre per cui sarebbe stato chiuso il contratto con l'Inter a livello di stipendio ci passa veramente tanta acqua sotto ai punti. Turam è un giocatore forte, cioè Turam comunque è un giocatore che nel suo la differenza la può fare, soprattutto è un giocatore che comunque a livello di crescita può andare a fare bene, perché comunque ha tutte le carte in regola per farlo. Attualmente è un giocatore, perché secondo me il vero punto e la vera domanda che dovremmo farci è, se l'avessimo preso noi alle cifre che poi è andato all'Inter, cioè quindi a 6 milioni più bonus, sarebbe stato nella rosa del Milan il più pagato, lui e Rafa comunque facciamo finta che sono tutti e due e non è il più pagato. Secondo voi in questo momento sarebbe stato giusto per gli equilibri del club portare a casa un giocatore come Turam e farlo diventare il giocatore più pagato della Serie A, scusate più pagato del Milan, perché è quella, è quella la cosa fondamentale, perché poi come vi dico sempre ci sono poi degli equilibri che vanno rispettati, cioè perché Turam nel momento in cui ti porti in casa un giocatore che al Milan non ha ancora dimostrato niente, ma neanche a livello europeo non ha ancora dimostrato niente, perché comunque non è un giocatore che ha fatto 25 gol l'anno scorso, è un giocatore che arriva da stagioni e stagioni dove ha fatto benissimo, cioè un giocatore che comunque deve ancora dimostrare quello che sa fare, e secondo voi sarebbe stato giusto dargli subito uno stipendio da top Milan? Che cosa avrebbero pensato gli altri? Ripeto, non è perché so già che adesso qualcuno mi potrebbe dire Lolo, fai questo tipo di considerazione per il discorso che vi facevo prima della volpe l'uva, siccome non ci puoi arrivare, adesso fai questo tipo di considerazione. No, nel caso in cui il Milan avesse chiuso il contratto con Turam con stipendio a 6 milioni di euro, io avrei fatto lo stesso discorso, anzi vi avrei detto che probabilmente stava iniziando a cambiare qualcosa anche nella politica degli stipendi, così evidentemente non è stato, perché il Milan ha deciso di non andare, anche lì non si è capito bene, se poi è il Milan che ha mollato o se è stato, aspettate che mi appoggio perché sennò cado, non so se poi è il Milan che realmente ha mollato o è l'Inter che poi ha affondato, non lo so, probabilmente è una cosa che non sapremo mai, però sul discorso Turam c'è da fare un altro tipo di discorso, e cioè siccome i soldi che il Milan può mettere in questo calciomercato nonostante la vendita di Sandro Tonali non sono soldi infiniti, ok? Ah tra l'altro poi del budget vi volevo dire una cosa, io l'altro giorno quando vi parlavo dei soldi che verrebbero rinvestiti della vendita di Sandro Tonali, ovviamente oltre a questi c'è anche tutto un altro tesoretto, utilizziamo questa parola, c'è tutto un altro tesoretto che avevamo già prima che deriva appunto dalla qualificazione Champions, arriva da tante altre cose, da tanti altri step che abbiamo raggiunto quest'estate, cioè quindi quando si parla della stagione scorsa dei soldi da utilizzare poi quest'estate, anche se poi lì c'è tutto il problema del discorso del fatto, i soldi che hai fatto l'anno scorso rientrano nel bilancio fino al 30 giugno 2023, quindi dal primo luglio, tutti gli acquisti che tu fai dal primo luglio devi comunque calcolarli su quelli che saranno i guadagni poi nella stagione, quella dal primo luglio in poi, cioè quindi partendo da lì in poi, sono tutti calcoli finanziari che ragazzi, io che cosa vi ho detto a parte che credo che è una mia opinione la vendita di Sandro probabilmente verrà fatta dal primo luglio in poi registrata intendo, quindi andrà nel bilancio poi dell'anno prossimo per tanti motivi tra i quali probabilmente anche quello che ti dà la possibilità insomma di non fare più 100 milioni nel bilancio attuale, ma di andare a fare magari il pareggio di bilancio con la vendita di tonali direttamente anche l'anno prossimo quindi fai più di esercizi, cioè non ne fai uno e fai più 100 ma ne fai due, uno consecutivo all'altro magari di più 20 poi dipende come l'anno prossimo, la stagione che arriva poi ci qualificheremo sono tutti i numeri e io cosa vi avevo detto l'altro giorno ragazzi non voglio con voi, non voglio più parlare di numeri e invece eccoci qua ancora, perché ripeto che l'altro giorno quando l'ho detto nel video qualcuno non ha capito bene io perché vi ho detto che non voglio più parlare di soldi, non voglio più parlare di numeri quando si tratta di giocatori da andare a acquistare Lollo vogliamo andare a prendere Openda e costa 50 milioni io cosa continuavo a dirvi, ragazzi non mi interessa cioè non mi interessa perché prima quando magari l'anno scorso, gli anni precedenti in cui avevamo necessità comunque di vendere o avevamo necessità di sistemare i conti era un conto, quando dovevi sistemare i conti era un conto quest'anno in realtà non hai più bisogno né di sistemare i conti perché se guardi il bilancio precedente siamo arrivati in semifinale di Champions League quindi economicamente sei a posto se guardiamo il bilancio questo che sta arrivando parliamo di un bilancio dove comunque tu hai venduto Sandro Tonali e quindi ti puoi permettere tranquillamente di andare a fare i tuoi acquisti quindi era questo il senso del non voglio guardare c'è una formica che mi sta salendo sulla mano era per questo che vi dicevo non mi interessa andare a vedere i numeri quindi basta e adesso scusate concludo il discorso su Turam dicendovi questa cosa che adesso il fatto che tu non hai portato a casa per scelta tua Milan non hai deciso di non portare più a casa Turam adesso necessariamente tu devi andare a fare un altro attaccante ma l'attaccante adesso lo devi pagare non mi interessa dei soldi però comunque vado adesso l'attaccante lo devi pagare invece prima quando potevi andare su Turam potevi dargli uno stipendio e non andare a pagare il cartellino adesso magari giustamente qualcuno di voi mi dirà certo però nel giocatore che vai a pagare perché vi ricordate il famoso discorso che nel momento in cui paghi un cartellino paghi molto meno di ingaggio quando non paghi il cartellino paghi tanto di ingaggio quindi magari ad ammortamento annuale più o meno la cifra tra i due è la stessa ok al di là di questo conto è ovvio che se prima avevi dico una cifra a caso 100 milioni che potevi destinare ai cartellini da utilizzare quest'anno se prima dovevi prendere anche la punta o scusate se prima prendendo la punta a zero avevi 100 milioni che andavano direttamente su tutte le altre tue necessità nel momento in cui questa punta adesso la devi comprare la devi pagare cash è ovvio che se devi andare a prendere una punta che ti costa 50 i tuoi 100 diventano 50 e quindi hai altri soltanto 50 da utilizzare da utilizzare nel da utilizzare nel tuo budget annuale poi ultima cosa che vi voglio raccontare ragazzi riguarda frattesi allora io ho letto un po' di cose riguardo a frattesi stamattina è uscita questa notizia per cui frattesi allora facciamo un attimo un cappello a me frattesi io eh ragazzi io se dovessi decidere io frattesi non lo compro io ma perché secondo me per il costo che ha è un giocatore che sì è un buon giocatore poi oh raga quello che vi dico sempre domani mattina arriva frattesi mette sulla maglietta del Milan e per me diventa un giocatore da tifare perché io tifo sempre tutti i giocatori che indossano la maglietta del Milan però adesso in questo momento se mi chiedete un mio parere personale su frattesi è un giocatore che per il costo per il costo che si parla in questo momento cioè adesso io quando sento 40-50 milioni per frattesi raga da mani nei capelli cioè 40-50 milioni per frattesi cash poi se mi dici frattesi lo portiamo a casa facendo 20 milioni più Colombo comunque mi dà fastidio tra virgolette perché comunque Colombo è un giocatore che io mi terrà in casa perché è un nostro ragazzo però non lo so raga frattesi con la cifra lì mi sembra un po' mi sembra un po' una cifra molto alta non lo so fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto poi per quanto riguarda frattesi volevo aggiungere anche questa cosa stamattina ho letto una notizia che frattesi vorrebbe andare all'inter avrebbe scelto già di andare all'inter e non sarebbe convinto dall'aspetto dal progetto dal progetto tecnico del Milan io non so se queste considerazioni sono vere perché potrebbe essere benissimo che queste considerazioni sono delle considerazioni che non corrispondono alla realtà ma nel caso fossero vere se fossi io a decidere ma questo discorso ve l'avevo fatto anche per altri giocatori in altri anni nel momento in cui mi schifi per me è finita perché c'è una una formica cioè nel momento in cui stiamo facendo una la possibilità di acquistare un giocatore e la risposta del giocatore è che mi schifi io basta cioè io non ti vengo più oh zanzara io non ti vengo più a cercare questa è la mia considerazione o poi magari le parole di frattesi o il fatto che preferisca l'Inter al Milan magari non sono neanche vere quindi stiamo parlando del nulla in tutto questo vi volevo aggiungere un'ultima cosa poi vado al battesimo del figlio di mia sorella l'ultima cosa che volevo aggiungere è che questa mattina ho letto che c'è un giocatore che il Milan ha cercato in passato che ha deciso di andare via dal Galatasaray ed è Torreira l'ho letto stamattina l'hanno scritto anche i miei collaboratori sulla pagina i milanisti ragazzi Torreira è il tipico giocatore che sarebbe la tipica non vi sto dicendo che voglio voglio Torreira ok però sarebbe una forbata perché tu di fatto vai a prendere un giocatore che è in lotta col Galatasaray perché vuole andare via ha deciso di andare via e tu vai a prendere un giocatore che è il doppione di fatto è il doppione di Benasser contando che comunque Isma tu non ce l'hai più a disposizione per tutti i prossimi mesi potrebbe essere una buona una buona opzione d'acquisto ragazzi vi saluto qua da questa scacchiera sono in un paese che si chiama Liscate ragazzi perché è delle zone di Milano sono in un paese che si chiama Liscate oh vi saluto vado al battesimo del figlio di mia sorella Achille si chiama il figlio di mia sorella e così avevo voglia di condividere con voi un pensierino domenicale come se oggi non mi vedete correre ma mi vedete in serio oddio serio non direi diciamo vestito meglio rispetto al solito ah poi volevo dire una cosa poi vi saluto tanti ragazzi che sono iscritti al canale l'ultimo periodo ieri mi hanno scritto preoccupati perché non ho fatto uscire il video ieri che era sabato e lo dico lo dico lo dico perché per i tanti nuovi che si iscrivono tutti i giorni al canale raga sto canale qua è diverso agli altri se qua non abbiamo nulla da dire non facciamo i video tanto per farli per parlare dell'erba o per parlare della scacchiera disegnata nel fantastico comune di Liscate poi i video li facciamo quando abbiamo qualcosa da dire quindi non preoccupatevi fino a prova contraria mi pare di stare bene e quindi ci vediamo domani 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 ci vediamo domani per il solito video giornaliero un saluto a tutti forza mila ricordatevi like iscrivetevi al canale ciao